siamo online già sì perfetto ragazzi buonasera e benvenuti a una nuova live dei pesci ragazza finalmente di nuovo in nostra compagnia ieri siamo presi un turno di riposo siamo tornati più carichi che prima sempre ovviamente sul rainbow six visto che è un titolo che più carichi che mai visto che sul rainbow è sempre seguito comunque siete qui sembra supportarci qui ovviamente sempre i soliti prc ufficiali salvo del king salvo la ovviamente il nuovo membro che fa parte dalla seconda live e mirko leggende credo sta per arrivare però direi iniziare subito avete qualcosa a dire siete carichi stasera un bene ragazzi no volevo salutare tutti e dire che stasera ci sarà una bella serata al rainbow ragazzi cosa dire iniziamo subito e non mancata mi vedo io un'altra cosa ragazzi sì sì invita a tutti spette che invito anche salvo sul non sei online non riesco a invitarti ma spero l'invito io allora raga però dovete togliere il volume delle delle live se no sentiamo sempre in bombi un geloico perfetto ok invidiamo a sì sì ora sì ok posso per chi ci sta seguendo da non lo so da youtube da twitch domandina interessante secondo voi è meglio capitao oppure mira fatemi sapere bella domanda partiamo subito i nostri ascoltatori allora partiamo partiamo vai partiamo partiamo belli cari allora siamo carichi sì o no certo spacchiamo tutto dai ragazzi bella siamo in tre benvenuti e vi valentina belle ragazzi ciao valentina qual è la domanda dice valentina qual è la domanda che domanda è questa secondo voi è meglio captao o mira su con i commenti tutti insieme allora io prendo sledge sì allora capitao l'ho preso io captao è meraviglia o che meraviglia il cacao capitao ahah 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 comprato allora forse che c'è dietro di me l'h hanno fornito che possono sanno spawn kill che qualcuno da me mi spara aia proteggiti con blitz che è lo scudone e sono abbassato un bar però mi ha preso lo stesso non so perché vabbè se ti prende la mano si vede ti ferisce mi hanno ucciso da direto mamma di me alibi vai 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 ragazzi di dietro dopo aver neutralizzato la minaccia ultimo nemico rimasto dove no dov'è da dietro salvo la verità no dai mi è riuscito a fare il flancone e a me pure mi hanno ucciso da dietro allora fra drona non ce l'ho il normale frango da normale con con traccetto destro però fra non sarà troppo attaccato perché potrebbe uscire è stata una cura indolore non c'è chi ha tirato una pizza da dietro vuol dire attraverimento proprio ma non c'è chi ha tirato una nuova tecnica con caveira effettiamo lo spaz 15 è la luison come no puoi busciare no no alla fine proprio ci vado di sopra i nemici ma è di macchiudo davanti a ragazzi barricate posto ma c'è una sfida in corso non ha sentito bene non lo so ancora non ho visto la proposta ah ok prossima partita la bilancia non c'è una sfida a posto allora fada 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 r1 r1 quadrato qui esatto che sarà qui davanti alla finestra grande grande a posto poi una qui fada atteggete il contenitore di biorizio a tutti i costi e poi che fino ultima qui ne ho solo due non hai tre no ne ho tre vero dove è nell'altra porta sempre dell'obiettivo oh mai sì imboscata pronta state alla larga meh attaccendo caebi porta contrappola state alla larga ragazzi sto telefonino dovete disattivarlo sempre che è knock minchia per il per il per il per il per il per il cazzo c'è ducati che sta prendendo l'obiettivo ragazzi andate all'obiettivo ragazzi 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 l'obiettivo prendendo obiettivo frate di cosa è fare ciao che mi sembrava che c'era bella perché rin fare come un grittino è venuto che ragazzi faccio una cosa in difesa prendetevi operatori interni così rimanete dentro cioè che significa nel senso operatori che sono un po lenti a muoversi però che rimangono belli attaccati proprio all'obiettivo perché ogni volta uscite vincono perché prendono l'obiettivo così a sto punto hanno pane per i loro denti allora io prendo ascio comunque 3 kg prima partita 3 kg ed è gasato oggi è road to ten kills no ma ti devo dire che ancora siccome c'è il tuo sito nuovo e ancora faccio fatica con l'analogico perché è ancora molto duro è capito un blocco c'è specie si da uno individuato il luato dove sei ce n'è un altro premi triangolo si rispotti anche se ho capito anche se ho capito l'altro è certo lungo un minuto mio non sappiamo il contenitore di bio rischio aprite fuoco un attimo che sport all'obiettivo o Adesso ci divertiamo Occhio, da dove? No, era un'area Occhio d'essa Quello Quello che non c'entra niente Non so di individuato Ma non mi corre quell'R3 Non mi corre, fra Proteggimi Ragazzi, l'obiettivo è vuoto Ma cosa sa te cazzo? Mi ha ucciso, fra Ma vai, Fede Guarda, mi ammazzò Di dietro mi ha ucciso E' un bar E' un bar, che ti devo dire? Guarda, prendete la stanza e proteggete il contenitore Guarda, io potevo fare due kill Ma è matta, te è di dietro Deci anni Ma guarda, io chissaccio che arriva magari dal re Resta solo un operatore d'attacco Milko Ledger, sei tutti noi Possiamo invitare una quinta persona Ci sarebbe Ah, ma è il microfono rotto Ah, forse posso invitarlo io uno Che c'è, aspetta vediamo se è online Guarda, l'attacco eliminata Ah, e ora non lo posso vedere Io praticamente fui o meglio Quaccio kill Questa partita Mia, ho un po' di vita Non ce l'ho fatto Ma era con lo spas? Ficchia camera era con lo spas? Non ce l'ho fatto Non vai, io non disi niente Io stavo dronando Stavo vantura pure Eh, è stato indolore, indolore quando arrivo così Forza miseria Ti prendi, ti prendi del sonno, ti prendi Sì, sì Minchia nightmare Dai ragazzi Per chi si fosse sintonizzati in questo momento Siamo i passi ragazzi e live Sul doppio canale YouTube e Twitch E questa sera sarà da Rainbow Quindi ragazzi dai Fatevi sentire Ascoltano Io inviterei un ragazzo C'è un ragazzo qua che conosce anche Salvo, salvo King Non so se ti ricordi Ivan Schuder Una cosa del genere Rinvitalo Sì, sì Sì, mi ha detto di sì Ehm, ok Vediamo se entra, se non entra parto Non so aspettare Vediamo un attimo se c'è magari Come che fosse Ok dai partiamo Dai, non entra nessuno Partiamo No, va bene E diamo il benvenuto a Commanderoth Ciao bello Ciao bro Ciao bello Le favelas Andiamo Sono le favelas Conosciutissimi in tutto il mondo Le favelas C'è male di picchino Se vuoi tu a Frost Io mi prendo un altro Ma non hai 6.000 Ti fichi se in prime Se in prime Perché c'è scritto da nome Ma se hai solo chi stai Tu hai Per 10 vuoti più Ma non hai credito Ma non hai credito Ma non hai credito Ma non ne ho Ma se mi ha detto Ma se mi ha detto Mirko che ci vogliono 15.000 Ma io non ne ho nemmeno 10.000 Fra Sì ma ti puoi sbloccare Aspetta che Suggerisco sta persona Così Eh lo suggerito Che cosa è successo Ok Invitato Ragazzi auguro a voi Mi ha fatto aiutare La schermata Cioè io ancora Mi deve caricare Mi deve caricare Lasciato Facciamo due kingdom Ragazzi Per salvo lab E vincete la sfida Dai Ti voglio tutti carichi Chi è che Ciao bro Tu Tu sei Mi hai mandato la sfida Fede Io sono Baby Valentina Non lo vede Ah baby Valentina Ma si è bloccato Sì sì bro Come non mi ricordo Siamo amici Aspetta che ora Ti invito Eh due secondi ragazzi Vivo Rainbow Mi sembro Ma in quanto partiti In una partita In quante partite Federico Eh non lo so Ora mi dice Difendete l'area E proteggete Ok siamo partiti È partito Tre partite Tre partite Ok va bene La squadra d'attacco Ha trovato una bomba Preparare le discese Mancano dieci secondi Se finiamo sta partita Ti invitiamo Però Attenzione Che vengono questi da qua Da qua dove Aspetta famo uno Un attimo Ce la partite Un attimo Non sei gravati Ormai non c'è più problema Da qui Da qui Eh fra Però se ti metti tu qua No vedi che ci sono io qua Vincere da Sto sotto da me Eh lo so Non vengo Sennò mi ammazzo Sono fuori Sono fuori Sono fuori Comunque Fede rianima Ci sono persone Ci sono persone È un secondo È un secondo Minchia È un secondo È un secondo Ma no no Fra Ah va Ma Ma Il Errore Non Sanno A fare Tut Lo sappiamo E li facciamo Non mi dire Di rianimare Il mare Mi assassino Ero Di la Zapattita Ma Ma Si Vista Appena Viste Tutti Un Ammazzavo Sì Azzina Ammazzavo Non Ucci Atti A Chi E A me Ma Se Invisi Errori Ma Non si Deve Curare Quando Un Pune Quando Manca Tra E Ora Va bene Iniziare Aspetta Vuoi dimmi Ivan Dimmi No Libera Io per adesso Non ne posso fare Il classificato Ancora Dai Salvo Lab Ti sto Tifando Grazie Chi è Valentina Valentina Ciao E io E la mia terza volta Che gioco Su questo Gio Io ce la metterò Tutta Spero di non Deluderti Se va male Va bene Lo stesso Il drone È trovato Una bomba Dieci secondi All'inserimento Ancora Cinque secondi Procedere Di Innescare La bomba Magari Fai Aggiungi Qualche Amico Bro No ragazzi Sono caduto Per poterle Rianimare Ok grazie Abbiamo il Disinnescatore Carica Grappolo Attivata Bomba Individuata Pune Terra Che Chino Mi ha colpito No no Non era C'è chi Un operatore Alleato No È uscito Ragazzi Bella Federica Aspetta Fra No Quattro Kill Quattro Kill Ambare Quattro Kill A breve Facevo Full Team Fra Non mi chiamare Quando sono Concentrato Quattro Quattro Ho avuto Quattro Quattro Kill Round 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 Two valentina cluedo arriva tra un po no no l'altro ragazzo che è entrato ora è così perché siamo in quattro è entrato ma due da appena entra cluedo allora come qui fra ne siamo 20 per loro dimmi e si fra fra non mi corre con l3 frate ma non è che non funziona no 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 io penso che sia perché c'è sto gommino qua e gli ho messo il gommino vai mi ha mandato 3000 messaggi invitami fammi bomba il nemico ha trovato una bomba prepararsi all'ingaggio riprendi fino alla bomba ma forta miseria nooo porca miseria mi ha triturato fra mi ha triturato no ma voglio provare senza gommino beccato proprio chiesto con me no vedi che sono feriti la maggior parte perché ne ha colpi di due e uno l'ho buttato per terra no no qua sto difendendo l'obiettivo ho buttato per terra e uno l'ho ucciso spaventato ma ci ho sparato sì spaventino non credimi a me ma ma due cavoli merino capo ma stale che se voglio fare questa sera dove ma mi curi bello non si sente fare torna almeno torna almeno una stella loro sbagliato a vera ormai che sembrano matchmaking appena sei nel menù puoi fare abbandono ma tu con questi qua per prendere i pacchetti l'hai mai trovato in un bacchetto una skin in generale ma io ho trovato la sola nero per per night tutto di invito fra ma voi ragazzi non ce l'avete un quinto no ma lui che ci gioca amico che gioca stessa questo gioco potrebbe avere magari qualche amico posso cercare aspetto ma non sono italiane due partite rimanenti per salvo lab la prossima sfida la lancio a salvo devil king va bene sempre di chi lo ok ma per quando stiamo giocando con il micco che faccia sono già sì che mi avete invitato a 6 anni avevate un votare scoscia 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 perché non sei concentrato chissà faranno cazzi da cellulare lavoro lavoro a raggio a raggiungere il silenzio non è che finisci di parare ci bella nico spostiamolo su whatsapp vediamoci online dai ragazzi iscrivetevi e lasciate like e passate pure da twitch e mi raccomando ragazzi condividete il video per vedere vostri amici così siamo di più e ci divertiamo ancora di più più siamo meglio è sempre così eh allora vediamo se l'ha preso ma vediamo se era questione di mi dispiacerebbe però non è riuscito dovrò fare così ragazzi se avete la possibilità fategli fare le killer salvatore che ha una sfida in corso mi raccomando vabbè sta giocando federico quant'è la venti bagli occhi venti bagli occhi perfetto e sono due di polex bagli occhi io penso penso che qualcosa tra sai che ora va pare perfetto aspetta che forse l'ho trovato ah si sono trovati 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 trovarevo trovati ma la verità la verità vabbè dove cacchio mi sai puoi cercare di guida quelle cacchio ottimo lavoro contenitore di più rischio localizzato raggiungete il contenitore di più rischio e difendetelo mi piace tantissimo sta schiena pubbino un ucci sta amico picco vengo con te oltre ancia sto divertendo allora sono qui aspetta che abbiamo una bella trovare giusto per capire guardo dietro se viene qualcuno ma sono al primo piano no no terzo cazzo mi rivolto da me bella gink quindi ultimo piano sono un solo difensore rimatto che hai fatto grazie per l'assist che è l'ultimo ogni pulso porco giuda come mi ha ucciso fra mamma mia che pompata che mi ha dato ragazzo porca miseria da cuore è venuto si 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 non mi toppi bastardo c'è una chi l'ho fatto dai salvatore dai salvatore credici dai vai ma come ti dpr red ninja si è unito al parco chi si aspettano e ciò dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio difendete la stanza un bel posto quale potrebbe essere dove mettermi il nemico ha individuato il contenitore di più rischio che dici mirko un bel posto dove mettermi un bel posto allora innanzitutto lancia i droni eh mettili sempre qui all'interno 10 secondi si ma scusa se devi uscire non ha senso che entri il nemico ha individuato il contenitore di più rischio ti sto dicendo ti sto dicendo siamo in quattro però se ti vai di piacere il giocatore gioca con noi ma non una partita ti hai detto una partita ma prima deve arrivare e questo è il discorso ormai ci finiamo sta partita e poi dopo ragazzi occhio ah va acqua le occhi un bar acqua le occhio acqua le occhi un bar cioè in pratica bacca è salito da qui sì, seriamente no, però ragazzi ho dovuto lasciarmi già da solo proteggete il contenitore di più rischio no, non lo so porca miseria spammamo, vamo eeeh, ho chiesto troppo, mi sa eh, fiuze non si faceva dare infatti tipo ancora stavo cercando a lui perché blitz poi era era fattibile con l'oscuro e fiuze non l'ho trovato raga, stasera vi vedo mosh no, valentino, non è mosh eeeh, ci stanno le partite così prima io ho fatto quattro kill ora ne ho una ci sta, è così eeeh, si poi valentina se hai scelto me che sono quelle che ci ha giocato di meno su questo gioco io è la terza partita che faccio su questo gioco spero ancora c'è tempo eh, c'è tempo fino alla fine esatto hai un'altra partita ancora sa poi c'è qua altre impegniamoci dai allora, secondo me sono sotto sotto sì, sono sotto sono sotto sono sotto e vai e vai aspetta eccoci mettiamo il drone nel lavandino atto ma come ora fa il fucine nooo, non l'ha trovato raggiungete il contenitore di biorischi di vedete nooo, oddio di quanto non l'ho preso aspa, 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 aspa vediamo a pia nooo l'ha distrutto il drone nooo non credo che bastardo ci sei salvo? si, qua sono dietro l'idea vai allora prima faccio una bella dronata tu contro la 6 esce qualcuno vai ok libero ok salvo vieni qua corriamo, corriamo carica e grabulo attiva adesso sto attento qui davanti qui davanti c'è i nemici ma dove sono raga? l'ho sportato attività nemica neutralizzate la minaccia ottenete il contenitore da me, da me una ucciso bella salvatore nooo non ci credo nooo 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 sai che c'era ma poi l'avevo ucciso ma l'hai buttato per te rechidum baret puttio haikido questo morale della favola è successo questo ma ti giuro fra non l'ho fatto posto sì se sai che c'è lui ma lo so lo so lo so lo so qua sono accanto a te apposta gli ho fatto magari valentina me la conteggia magari valentina me la conteggia vabbè dai vale la killer era sua alla fine la killer mia vale me la conti? difendete la santa no mi spiace eh vabbè ok va bene così va bene così dai per passare hard Brad is e a qui ha messo minute il no chiara che cazzo fa mb m m ma chi hai a stasera sto distruggendo il tuo mario e fai lo serio ma la minura che ha 42 di vita muri praticamente ammazzo il nemico non ha trovato il contenitore cercheranno di localizzare oggi sono a sbagliato piafra amare ragazzi siamo attenti qua sotto perché bacca è venuto da qui mentre che cosa fai e che si fa il bel giretto vada fada occhio dietro c'è una porta proprio che se l'apro di distruggo posso giocare con tre già quando siamo no bro siamo cinque siamo cinque ora dopo questa magari se ti fa piacere iscriviti e lascia like dai che magari prossima volta giochiamo insieme noi quasi tutte le sere siamo in live è morto no no ci sono il nostro lato sento un sacco di passi ok che grande luca messa picchino appena me muovo no un attimo di verona controllati bella per te allora c'è dov'è quest'ultimo qua sotto altro adesso io sto compro un po c'è 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 trovato c'è 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 grazie e diami benvenuto al lux ciao luna bello benvenuto bella aspetta che scrive qua allora ultima partita dai faccio la bravo una kill per vincere la sfida va bene dai proviamoci che invitato c'è il 2000 e vado aspetta come ecco che è già entrato ok vai 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 perfetto dopo l'angelo a salvo a salvo dei vabbè lancio salvo non la lancia io scarso sono io zero virgola mercato quando hai online quando hai online di rango un rango tango no scherzo oro tra il grave e uccisioni morti 1.0 bella buonasera pezzi totale casiti ah ah siete mi dice ciao giovanni calvi ciao ciao giovanni no quale mi prendo mirino redotto e oleografo con il pombo non gliene mettere non gliene metto ok oh bomba oh bomba non serve nemmeno di qua mi viene in mare ok ok difendete l'area e proteggete le bombe yeah questo qua è una bravo attenzione la squadra d'attacco ha trovato una bomba una sola barrigata qua rimangono 10 secondi restano 5 secondi bomba localizzata per quanto riguarda le cose io ce le ho capite per quanto riguarda dove mettere casome le possibili le trappole già vedi queste determinate cose c'è c'è no ma che è Già fatto già fatto back Ricarico no il drone il drone c'è Twitch L'ultimo nemico rimasto Lasciata la salvo Lasciata la salvo Stava scappando Stava correndo Una kill provate a farti fare assalto Mandatevi avanti a me Poi se muoio ci pensate voi Ma chi lo fa decepare caroce dai Parra Parra chi? Parra dice ti do il mio consiglio parla Ma vediamo che vuoi cadire Io non ho detto niente Il drone alleato ha trovato una bomba C'è il motore c'è il motore finito C'è il motore Il motore finito Mute Certo che chi deve dare male Mute Il tuo caruso non capisce Io fossi io chiamo No 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 Non lo so C'è il motore C'è il motore Ancora 5 secondi Raggiungete la bomba Vai Fred Mi comando davanti io Io non lo consiglierai perché Vai vai drone 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 No aspetta che ci hai spaccato aspetta Sparano In fondo Porca Anna porca Brutto pezzi Merda Ho colpito ragazzi L'ho colpito Hai trovato la bomba Lo so Carica delle frazioni Piazzata Fermo Mirko Mirko Fermo che qua ci sarebbe fermo Visto Ah no più Ah se no minchia Pensavo Bella salvatoria Io lo andrei a prendere Eh là è giusto Bella Ma no lui Stiamo capendo niente Stiamo a giocando 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 Cazzo Ultimo uomo per la squadra alleata Che litore No anzi dobbiamo cercare di fare fare la chi l'ha salvo non va a superarci Eh no non ci dov'è Ave un uro così Allora faccio una cosa Mi prendi sto'lta io Come cominciava Come cominciava a partire E torna patto Una tonna avanti No Valkyrie Che mi ti hai preso Caveira Tutto l'accio Non è male Mi piglia un frosty Chiedo Dai prossima partita Se vincete 10 euro Dono Ok Gianni Proteggete le bombe Una trappola Chi ha frost? Io io No vabbè tranquillo Allora La trappola con il po' No vabbè Non sono così intelligenti Ah Alla direttora La posizione di una bomba Doni tu ci fa Allora Siamo a 10 secondi Posiziono al stappeto trappola Ancora 5 secondi Ricarico l'arma Bomba localizzata Filo spinato Piazzamento Ragazzi qualcuno deve coprire qua bomba Bomba A Io copro la B Piazzo filo spinato Io sono su B Ok Io Boh Sugnonele scale Mi salvo Aiuta Ninja Così Fai la kill Occhio Occhio Ture occhio Ah ok qua si entri Ture occhio qua su Ture Nesta porta Ture non devi votare Perché ti chiedi del rumbero Ucciso Ucciso Come l'ho ucciso Sparo lo sa Uccidio 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 Grande Bella salvadore Bravo salvadore Ucciso Grande Abbiamo Sta fanno Un cazzareare Il muoto Va Vabbè Nasconditi che vengo io Nasconditi che vengo io E ti curo Ok Bella kill ragazzi Ho vinto la sfida Non ne deve fare Ok ferimento Trappola Ma ti curo io Che devo fare Eh curami Curami Non ne posso curare Ma perché Sono due Sono due Aspetta Aspetta Ce ne sono due Aspetta Aspetta bro Ricarico Ricarico Ti avrò un video Tutto di questo Cà forse ce n'è uno Ce n'è uno Bella Neochirurgo Mi ha sbloccato Neochirurgo Ma tu non puoi capire Quello che ho fatto A buck buck Mi ha ridotto In fin di vita Con il grimaldello Ci vado col coltello L'ho distrutto Bella ragazzi Bella Io ho fatto una kill Pulita pulita Ma è gigante È più semplice Bomba che presidi Capital Minha capital Dovete usare il drone Per trovare una bomba No vabbè tranquillo Fra lo so come sono Le cv quelle serie Che cosa stanno Le cv Cv clan vuote Il drone è alleato Ha trovato una bomba Proligio Vado Che sono Ah qua Eccoli Trovati Fine partita Vado a donare Grazie Valentina Grazie Valentina Bomba individuata L'obiettivo è raggiungerla E disinnescarla No ho distrutto La camera Non è che Stavo facendo Sponchile No troppo studiati Per l'espo Troppo studiati Per l'espo Sponchile Allora c'è una cosa Carina Accendiamo Dalla botola Grande fede Attivo un drone Stordente Drone partito Che fuga Gli ha distrutto Andrò Dov'è Dov'è Mamma mia Salvatore Ma cacca Ma ho combinato Un panico Mamma mia Un panico E' il panico Mamma mia Che Bella Bella 3 kg Anche tu Bravo Bella Ragazzi Per Mirko Legend 3.930 Allora Io te lo dico Fada Io voglio Battere il mio Record Su casa Bella Valentina Ragazzi Valentina Donato Grazie Vale Grazie Vale L'altra Volta Il live Ho fatto 17 Kill E' Devo Riuscire A far Una 18 Stavolta Rado 18 Poi Trova Un'altra Partita No Vabbè Il mio record E' 26 Ciao Vabbè 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 Certo Che Usi Numeretti Un po' Particolari Adesso Devo Riuscire A Parare Andiamo Con Un'altra Partita Ragazzi Guardate Che abbiamo La prossima Partita Che Se la Vinciamo 10 Euro Di Giovanni Calvi E Poi Valentina Dice Stavolta Kill per Come Di nuovo Per salvo Love Non per salvo King Non lo so Magari Si è Confusa Allora Stavolta Kill Salvo Devil King Volevo Dire Dicito Gai Vanno Un attimo Frate Mi Chissà Parli Du Milano Un attimo Fratello Blocca Di Due Seconde Ma Non riesco A Parlare In La 10 Dice Tre Partite 10 Euro Per Salvo De Albre E Poi Questa Questa La Vinciamo Sono 10 Euro Da Giovanni Calvi 15 15 15 e diamo il benvenuto a jodia 1337 benvenuta benvenuta inserimento tra cinque secondi raggiungere la posizione del contenitore di più rischio ma siete pieni giusto si paolo bro se venimi prima 10 kill in tre partite dai fattibili 10 kill in tre partite a me si ma tu la devi fare salvo preparati si 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 blu adoro anche sono combinati con mirastig questi sono questi sono più studiato ha chiesto Ok fatto Eh lo so Il discorso è che mi ha rotto un pochettino le palle Mi ha ferito Ah no mi sono fatto a Frost Adesso manca Echo Controllami il drone No c'è Caveira c'è Caveira Ma dov'è sta? No lo so già l'ho distrutto Ok io ce l'ho già stato fatto Un solo difensore rimatto Ucciso Aspetta aspetta Oh ragà ce n'è un altro Ragà Qui ce n'è un altro qua dentro Attività nemica No no Non mi ha sparato più mentre Ah vabbà Dove dove là No Non l'ho visto Salvo Non l'ho visto Questo proprio Io muoio Ah si Ora l'ho visto Eh vedi ero girato dall'altra parte Infatti non l'ho guardato Si Guarda ragazzi Ah si Quello Incredibile ma vero Se chi le bravi test Bravo Mi sto sbloccando ragazzi Salvo Guarda che sto Puglia Degli Dorsi Voteri Dosa Bucca Dalle Che Non è Fa Forza Salfuccio Facci vedere Quanto Vabbè Hai tre partite Salvo Hai tre partite Dai 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 Per favore Hanno disattivato un'altra volta lo scudo Vabbè dai Mi metto una skin molto Molto etera Valentino scrive Dai king Fai il re di rainbow Ma lui è il re king Quindi vediamo Doppiamo proteggere il contenitore di fiori Alla ragazzi Lasciate Ragazzi mi raccomando Lasciate Il like E il follower Tutti Lice Escrivetevi Per noi è importante Ragazzi Arrivate a farci piacere il canale Dai Mi raccomando ragazzi Condividete la live Insieme ai vostri amici Così siamo tutti insieme Ci divertiamo Allora Vediamo qua Vabbè già baricato 150 condivisioni o no? Ci siamo Ma scusa Ma perché ho preso 10 di danno? Individuato il contenitore di biorischio Adesso fa danno No no Ne ho un altro Ne ho un altro Ah devi mettere No Mi sono distrutto Da solo il drone Dokaedi Oh ciao Allora Ah già qui sono Bella Se può venire qualcuno ragazzo per aiutarmi Aspetta spostati che do supporto Vai 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 Io sparo Non lo vedo Bella salvo Ragazzi ce n'è uno qua Ce n'è uno qua Ok a posto Dove? L'hai visto salvo Dov'è? E' qui Vai salvo Bella salvatore Bella per salvo No era lì in quella porta Ho smirato qui Ho smirato Lasciatemi 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 Bella salvatore Bella salvatore Bravo bravo Ma come 4 kg Che ho 4 kg E' fatto sta partita Fra Cattivi Fra Ma che cosa fa Hai pensato 2 e 4 Che ti sei fatto praticamente Tre quarti Di Di rispettare Dal buzello Germano Bella Dura Che non mancano Altra 6 kg Quindi 3 In due quarti Vai Valentina Dice Dai King Fire Der Rainbow Vai salvo Fai vedere Chi sai Ma io non ballo Io non ballo Faccio Fatte Ragazzi se vinciamo Vi ricordo che ci sono Altri 10 euro Qui di Giovanni I Giovanni Calpi Dai prossimo Se vincete Se vincete Scrive Come sta giocando Già posso andare A donare Partito alla grande Partito alla grande Rai Gara Giusto Il ragazzo Molto talentuoso Si è messo La bandana In testa È incominciato A spammare Di per lambo Allando Furioso Dove sono Oppure Rolando Sembra Dove erano Prima 5 secondi All'inserimento Vi faccio Il Oh dimmi Più rischio individuato Raggiungetelo Che fortuna Allora Dai Incominciamo Ma so sempre Dove era Ma dov'era Dove era Porco giù Da dov'è Chi c'è dietro di me Forse io Salvo Ah no Stolta Non c'è più Frost Hai capito Controlla Mi sembra Un prolete Ninja Un nuovo caricatore Un nuovo caricatore Aspetta Sono sotto ragazzi Ragazzi sono sotto Vero Ricarica No Di dietro Porca Tra che ha fatto Che sopra Salvo Allora Sta arrivando Qualcuno Brona Stai Stai Druando Mirko Sì Adesso Druando Che maestra C'è chi da abbandonato Ma è che forza Ma non mi rilevete Dall'ultima Ma ormai è qua Che fai Ormai è qui Lai Attività nemica Realizzate la minaccia Smettete di difendere No Da dove No Ma non c'era uno Da salvo Vai salvo No Da dietro C'è quello Da 10 Alibi Da dietro Porca miseria Dai raga Che avete vinto E male Non lo so Se sto round Lo chiudiamo Mi sa Di no Mi sa Che il prossimo Lo chiudiamo Sopra di te Sa Mirko gamer Ciao Mirko Porco giuda Ciao Mirko Benvenuto Bro iscriviti Tranquillo Che mi spiego pure io Guarda Guarda Magari possiamo fare Qualche collaborazione In live Insieme Si si Dai ragazzi Iscrivetevi Lasciate la like Operatori con trappole Operatori con trappole Che così Abbiamo la vittoria Assicurata Sarebbero Dimmi ne una Valkyrie Ce l'ha No Valkyrie alle cam Io voglio fare Il cancro Ancora Ma io ti dica La vina Ecio 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 Sì Sì Ok Forza salvo Bella Bella Mirko Magari venga a farti Un saluto Dai prete tu Hai in mare Ancora due partite Dovresti farla Senza problemi Fra Ragazzi barricate qui 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 Non è barricato No è misto Assurdo L'ho spottato Si cazzo Sembare Rimangono Rimangono dieci secondi Ancora cinque secondi Proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi Ti abbassi e spari Ebbè era infatti un aiutino Ma cosa stia capendo nero Lì lo pare Tututututututu Che sta dicendo Va Ok Ragazzi manca una barricata Wow Dove? No Eh ragazzi questo mi è bustato Comunque ho deciso di giocare Beh Mi piace il maverick Preso Te l'ho spottato Mirko Grave Gliel'hai spottata Direi cà Vai Finalmente si arrivo io L'autodestora a casa Ce n'è uno dietro di voi Distrutto Uno da Mirko Già lo c'è Già lo c'è C'è uno per terra Ce n'è uno per terra Grande Non di preoccupare Ci sono io Ci sono io Ci sono con 5 kill Ci sono Vi distrutto Che è il dio 5 kill Ma come hai da su New death Ma che la fatti C'è una naga Di battaglia All'avversare Posizione 5 kill Donna mia Puttira Proviamo dai Ivan è arrivato Il ragazzo è arrivato Bro È arrivato L'altro membro Magari ci vediamo Domani Va bene Quindi l'abbiamo vinta La sfida Federico Abbiamo vinto La sfida Con il Giovanni Ok Perfetto Ivan è arrivato Il nostro membro Del team Fra Vado a donare Ok Giovanni Grazie Bro Niente Ivan Ci vediamo Domani Va bene Ma 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 Mi stai sentendo Cosa ho detto Cioè forse Non hai È arrivato Il nostro Amico L'altro Membro Del clan Magari Ci vediamo Ci vediamo Praticamente Prossima volta Va bene Te l'avevo detto Dai Ce le siamo fatte Qualche partita Insieme Fra però È arrivato Ora E deve Entrare Lui Perché Giusto Così Va bene Duppamo Va bene Salvo Aspetta Aspetta Un attimo Che mi sta Crasciando Il party Fallo Tu Federico Fa il party Sennò Qua mi Crascia Tutto Cosa ho detto Il crash Tutto Mi Aspetta Salvo Un attimo Premo Toste Pessi Non ti preoccupare Che ti dà La schermata Anche io Quando vi invito Dai Ok Aspetta un attimo Un video Ciao Ivan Ci vediamo Ivan Ci sentiamo Ciao Invita Claudio Dai Lo sto invitando Poi lo vedo Ivan Esci dalla lobby Per favore Bro che dobbiamo Invitare All'altro ragazzo Dai che magari Se ci sei domani Ok Perfetto Nishini È arrivato L'invito Ok Perfetto Giovanni ha scritto Vado Di salvo Di salvo Siamo già 4 kg 4 kg Ecco fatto Grazie Giovanni Grazie per i 10 euro Bro Grazie Bella Giovanni Grazie 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 Io gliel'ho mandata Ragazzi La richiesta Va bene Dai Andiamo 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 Dai Andiamo Dai Appena entra L'abbiamo Invitato Di tutto Andiamo Ok Ok Quindi Allora Stasera Stasera Di grande Spolvero Stasera Fra Sanderobbo Non lo Dio Perché Sennò Non ne fanno Spide Con te Stasera Buon Dico Non Fato Non E Lo Faccio Peddere Dalla Casa Lo Faccio Peddere Caruso Stasera Proprio Mi Puono Venere I Trainer Di Rainbow Ci Sono Io Ci Sono Mamma mia Di Abba Federico Distrugge Tutto Ragazzi Dove Portare I boss Eterrambo Dove Saranno La Inizia Sopra Sopra Mi A Ciò La No Mi Che Dove Sono Aspetta Ah Sennemente Acquisto Claudio Sono Sotto Sono Sotto Qua Trovati Sotto Qualcuno Inviti A claudio Perché Dice Che Non Riesce Di Entrare Io L'ho Invitato Già Lo Stare Invitando Infatti Invitano Ma Come Non Riesce Entrare Ci Ma Non Sono Non Ave Scritto Questo Ok Invitato Di No Non Riesco A Entrare Di Nuovo Oh C'è pericolo Di Spawn Buonasera A Tutti Eccolo Un buon Eccolo Che Arriva Quelli Quelli Brutti Scusate Ragazzi Però Ho Ritardato No Tranquillo Bro Mamma Mia Mi ha Arato Mi ha Arato Fra Vabbè Resisti Resisti Avete Iniziato Un'altra Partita Sì Ma Questo Frattempo Mi vado A fare Una Pippa Sì Ebravo Dai Va Già Se L'ha Fatto Il Dice Lanza L'ha Fatto Eh Vabbè Come Avete Fatto Sfide Qualcosa Ci Parlato Sì 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 Due sfide Due Vittorie Parola Bella Ragazzi Perfetto Perfetto Usciamo Unite A Cosa Rè Vittorio No No Meno 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 Vieni qua Vieni qua Spacca qua Vieni qua Che spaccare E come lo spacco Con R1 No Non lo puoi spaccare Non lo può spaccare Non lo può spaccare Ah ok Bana sì A che round Non si spacca Vai 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 R1 R1 bravi Ci vediamo dall'altra parte No 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 Noi raga Mi sto seguendo la live Appena finite Endro subito Mi riconnetto Va bene Sto sentando i giocchi No Salvatore E mare E mare E mare Ma non lo sapevo Che era lì Ma Mare Ma Che sapevo Che era Dà Mare Io non Sapevo Manco Che stavi Mirando La Chissaccio Ma Me l'hai fregato E che c'è Mu A Semi E che non So Nemmeno Che sapevi Che era Lì L'avversario Frato Ma che sa C'è un bar Qui Sende I pazzi Ancora Va bene Dai Pina Kill Dai Frato Carica Grappolo Chi è stata Ma sta carica Grappolo Come si deve Sbloccare No Che sono Scemo C'è Cacca Io ovviamente Puscio Che sono Scemo No Peccato Sa Peccato Vengo Pippo Un po' Direbbe Non avevi Vita Se non L'avevi Triturato Peccato Ma non Ti avrevo Di picchiavo Non Nega Di picchiavo Sparavo Pulse Di picchiavo Ma scusami Non sapevo Che lo stai mirando Tu lo sai In barega Sogno Primo A dire Supportiamo Che alle sfide Come Regno Creatore Supportiamo Il creatore Esatto C'è Mi Stasera Sta Fanno Prosta Fanno Cagare Ho capito A mercurio Ne mettiamo Tecchini Ci dobbiamo Una macchetta Da tecchini Ci vogliamo Passare Un po' Perché Non lo mettiamo Detto Ragazzi Una cosa Perchè Seguandola Live Volete Che mettiamo Tecchini Fate Lo sapere Ecco Ragazzi Vogliamo Sapere Se vi Piace Tekken Setta Noi Siamo Dei giocatori Temerari Siamo Multitasking Un po' Di Individuato Il contenitore Tanto Sei stato Individuato Lui Ma C'è 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 ma sei in forma stasera? ma la panza è in forma e poi il resto non lo so parlano di panze e panza a stasera sono andato a scenare fuori con mia moglie ma mi mangiai una cosa chissà perchè la gioia hanno sentito chissà perchè sentite la ricorda no 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 filetto di manzo fratello filetto di manzo accompagnato con grana e rucola niente tu frate ma stavo vittandolo in fuori prima ci voleva pure quella che faceva con le camice per me dava qualche consiglio perchè io vai ragazzo arrivando bisglieci dove 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 ma che saccio mi è frate e contro le replay da dove? da fuori oh raga non ci credo raga ha bruciato il muro ha bruciato e mi sparavo un uco un uco un uco un uco ma ragazzi aiutatemi siiii fornisto soccorso alleato ferito grazie ma eri di te forse c'è pure ma porco giuda porco giuda ma di quando l'ho ucciso? penso pure ma seriamente seriamente era qui ma niente c'è duemico che stasera questo sguardo poi per cui stasera ucavi vuole fatto vuole fatto vuole fatto vuole fatto con cajuya dolea vuole fatto così quale fa che cosa hanno detto le persone? sì ma solo rende tra di voi non ha senso è vero le live su te che non sono esclusivamente eroi però siccome ci vogliamo dare due musterzioni tra noi esatto quindi per riprendere la mano giusto tanto per riprenderci la mano va per compiaci un po' noi ma cosa che sono diventato one kiss ridendo e scherzando ciao no ma io ho voglia di prendere gazzuia di federico sai per il nato tipo giacca e portarmelo a presto ma perché chi non c'è la doro ce l'ha il personaggio l'avete visto? che aveva la carta dorata hai lo che ha scioppato perdete iscritti tra voi raga è come si è giocato file qui sul rainbow eh vale non penso che hai tolto sai cioè sarebbe bello portarlo magari una volta però il ring è vero hai il ring devo andare il ring no 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 vabbè lo sento qui pure le persone non non è normale è mandare il ring fra ma ora ora c'è uno che c'è uno che diventa trasparente fra e il vigile su spai che il vigile fa non sono solo solo c'è uno che ci facciamo alla fecchino alla fecchino ok era fricchino ma madre mia ma porca miseria la sceglia ma salvo fra io non l'ho uscito e tu mazzi che in terra a maria mi tombare ma chi sta combina ma si è in terra la solo ammazzare a tu io non l'ho ucciso apposta stia ma non me la sta manco tempo di parare povera stai da chi da me una battita che non ha fatto mensaglierla oh ma come ti ha ammazzato pure un po' di quanto riguarda il contenitore chiamare sta partita magari 2 0 2 4 che c'è più stati puttelli il video un mazzo e vendere in seccati e molto maggi no ma la parola parola che mi indivisa vigilo buono amare questo è un round bono vinciste sorranno tu tu riala ma la tua certo a san voodoo king dopo che finiamo la live magari si potesse fare qualche partita che mi uso che evitato dalla claudio bar non che resate audio te lo devi prendere ma c'è il microfono spende fa ma perché c'è il microfono spende è bravo cos'è brava dei movimenti di velocità però inutile velocità io aspetto lui si scopre un maglia e in più un mamo io comunque sto virgile salvo me lo voglio comprare fra gli indietro e fare ma che ma pigliare ma pigliare i sordi non c'è siamo parranno parranno per il nuovo audio vai regalatevi già ho già la gioca ruso spende 140 euro gli occhi pulire di gioca ruso va vero puoi tante cacica ma non si s'entrazzavano sti occhi ragazzi che è una barricata io c'era una dove lei mi fa mi qua qua mescale il canale faccio questo e altro qui 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 botola botola ma lo scendi mancano 5 secondi ok non è molto minchia fra ma ti stavo stavo sparando a chi credimi salvo dietro salvo dietro dietro salvo ti ha spottato il nemico ma avete una sfida in corso si oddio uno di vita salvo sono tutti lì fuori da te merda ma che fa questo ma che fa questo ma qual è la misi ste cose ragazzi iscrivetevi e lasciate like spolliciate salvo c'è c'è niente perchè mi ha sparato ma è che che sta ammazzando nooo ha fatto l'uccisione ok a queste trappole di gridlock c'è da oh c4 piazzato ma che è davvero in chiamare su sciamonite in bar ma su sciamonite dai a questi danzinghi dai ma e e per cui occhio grande ma c'è 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 no nooo in bar il porto giuda c'è mamma ci usciamo uniti che stessi chili ma roberano una battita senza motivo fra i maturi chi fice da un mazzo a occhi No, peccato, l'avevo preso Vai raga, invitatemi, ora la vincemmo Certo, aspettavamo te, Claudio E' normale, finchia Certo Ancora non l'avete capito Io mi vedi 300 km e portavo sparta di playstation Questa è una cosa da ammirare Per favore Ragazzi, ma ci possono essere 40 gradi a giugno? Ma, io non lo so Ma c'è stato, si sta morando Ma si sta morando Ah, devi fare 6 kg salvo? Va bene Stasera, vedo una live molto rilenda Molto tranquilla Ci sono Sì, le sfide sono arrivate Però non Non è anche tutto quel Sì, sì, lo noto Anche dai là Sì, trailer Vabbè, ci stanno Eh, valentino Dai, salvo lab La chiusa e tu noting Ti rispondi da sola Sì, si ha volato una da fare Sì, è bello Chi la pari Vinde live Ma veramente tu ha fatto Che prima Mi ha fatto Chi sei Tu fighi su Che vi Come Se non riesce a vincere le partite Non ci metterà il mio nome Non è che della tua parete Senta Siccome Lei ha detto quella cosa Salvo lab Beh, ma perché Dice ti ha fatto A te una sfida più alta Perché tu Comunque sei livello Sessanta Sessi Sessanto 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 Parrambo 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 Vabbè Sessanta No C'è Sì, fra una partita Si chiude la live Vabbè Non mi condevo più Un bar Sto saccando Sessanto Sessanto Dai Dai No, è che a fare Dai Voli Dai Un'ultima partita Fra Non l'ho fatto A po' Nessuno di noi L'ho fatto A po' Ma hanno cambiato Tutto Caffè Dostoevski Vai Tutto un'altra Costo Ma Vabbè Mh Chi ha appena Parti i tempi O che sta succedendo 5 secondi all'inserimento Dove sono ragazzi Non li ho trovati Ma io Non li ho trovati Per il nemico Ma dove sono Sono giù In cucina No, ma io Non ci credo Vaffanculo Ma com'è possibile Che accungo Poi di Mammazzine Io Capidire Ci sparo Consecutivo Non lo Pichiamo Una volta Chi è Quello E' uscito Fu Ragazzi Controllatemi Il drone Ditemi se Escerà E' uscito Sì Sì E' uscito E' uscito E' uscito sinistra a destra sinistra a destra eeeh mmmm che paga stupo bella attivazione ok al posto fatto eeeh maledetto oh c'è qualcuno c'ha aiutatemi oh amico mi spacciavo completamente maledetto casì l'MP7A certo ok ma chi mi sta dicendo ma c'è l'MP7 l'MP7 che è che quanto costa qualche mille crediti ma è forte è quello che piazza buonasera buonasera ma già dove andarci col pompa dai ma questo che c'è che mi uccide pure così non scopo qualunque no lo so ma sparato senza mirare capì mamma mia che brutta kill che mi ha fatto basta esso mi rendito che vuoi che vuoi cianci che può fatto ok valentino dice questa sfida non mandare aspettiamo provato dai dimmi cosa possa mettere all'MP5 freno di bocca rompifiamma freno di bocca dai la sfida per questa partita non va l'aspettiamo credo e non l'abbiamo fatta apposta ragazzi cosaccio che c'è chi che ne vuoi ma che c'è che fai ma non lo fai allora ragazzi c'è una cosa pure io voglio qualche sfida dai eh facciamo qualcosa che stasera è giusto che al giro la fanno tutti facciamo qualcosa che se una nera a fetturid stasera non si chiudeva mezza sfida facciamo qualcosa facciamo qualcosa tu non devi dire niente tu gli hai detto che sei in forma cos'era non ve ne fanno vabbè in forma vabbè in forma ma ci sono partito e ne fanno una due tiri in forma è una compromessa regolarsi di conseguenza 10 secondi siamo a 5 secondi ricarico bomba localizzata capito trappola piazzato posizionamento tappeto posizionamento tappeto Occhio! Fuse! Ma dov'è? Da sopra, non ci credo Guarda Oh! Lo capi fatto? No, il bana fatto! Oh, ma chi sta succedendo, caro? Oh, ma... Meh... E dove? Ok l'ho preso Preto No vabbè Alleato a terra Ricarica Ma stai botte le fanno schifo Ragazzi occhio sopra Stai botte le fanno schifo Chifo come l'hanno messa Gaspè vi chiede gammese gassariano Lestis instana, saldo saldo sotto Aiutatemi Nohohoho Ricaricate Parato colpom Nohohohoho Bravissimo Nooo Che smirata Io? No tu no tu stavo guardando l'altro E' nero E' nero come si che no Minchia salvo ibernato totale Andrea Ciamballe Ciamballe scrive grado E' qua devi parlare con Con quelli che parlano Che giocano di più E che parlano di più Inghia si piglia una cosa Che chiede impestata Ragà Qua c'è Chiedono Com'è la situazione Per quanto riguarda il grado Per quanto riguarda il grado Come siete combinati? Oro 3 Oro 3 Ne vado onesto Dovete usare il drone per trovare una bomba Tu salvo Ma è solo sei operatori Si brogioni Io è salvo lato Abbiamo iniziato da poco raga Anzi veramente per quello che facciamo E' la terza partita che facciamo No No del terza serie vuoi dire Terza serie Della tanta partita Si si Ma non hai trovato una bomba No ma hanno cambiato troppo in questa macchina Trovati Ancora 10 secondi Dove sono a primo piano? Si si Piano sotto 5 secondi Bro se ti fa piacere iscriviti lascia like Magari qualche volta che possiamo giocare insieme Tu da che grado sei Andrea? Che sei un pro in questo gioco? Ma dove sono a primo piano? Si si Perchè 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 Dove cavolo era questo? Ma di dove ti hanno sparato? Caricati a strada! Dove? C'è due all'infuocato? E' Valkyria A posto, ma sono fatta e vai E certo, ma la futtista a dire Ma che dì, minchia, mi stava inculando sta qua Facciamo una bella cosa Ah, che bello quando si mette queste cose tutte in sincro Orco giù Sto plantando, copritemi Che cassa fanno? Ho plantato Tu l'hai plantato Ho plantato Ho plantato, ho cantato Passato Aurora Bravo tu Beh, ma chi se tu non va? Ah, ma adesso alla fine la kill è buona E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' Di Difendete le bombe Sì, vabbè. Ancora 10 secondi Posizionamento tappeto Mancano 5 secondi Dovete impedire che il nemico disinneschi le vostre bombe Occhio, la squadra d'attacco ha trovato una bomba Ricarico Fuori dalla linea di tiro dell'ADS Un ricordino La porta è stata abbarricata Piaccio il filo spinato Filo spinato piaccato Piaccio il filo spinato Foto1 Piaccio il filo spinato Piaccio il filo spinato Guardo il filo spinato Submai King, mi senti? Ma a salvo King l'ho sentito voi, raga? No, ce l'ho qui davanti io Ma come non mi senti? Ora ti sento Bastardo Ma chi c'è fu prima? Prato, fu spavento c'è fu Come sono stati individuati Oh Oh Ma di dove, Fra? Ma che dici? Chi è Conecio, salvo Io Salvo non mi colpirà, Fede, perché sono stunni pure a lui Ah, ok Ma perchè sono Oh, ma che? Fra, ma un giustonnato Ma come stanno bruciando i miei autori Ma che vanno Ma che vanno sperato, di nuovo Caliccato Non ci sarà la mera Ma che vanno fatto? Ma che vanno fatto? Ma che vanno bello Abbiamo bello Porco giuda Ma non si capi più niente Ma ne la saluta proprio a morte Ma che vanno tutto Tu, non hai allato? Ma che stanno fanno? Ma io ero stunnato Ma che vanno stunnato? Ero tutto bianco Ma che vanno? Ho visto? Ma quale bianco che era allato a te? Dai, ora invitatemi però, eh? Si Va a te, Mugaru Vai raga La salva Allora aspetta Esci Potte tutti i pesci a casa cutia Ma, 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 ma Me ne lanciate pure a me una sfida ragazzi Dai Ma che come l'autore, vada Ma che come l'autore, tuttuo Dai che sono morto alle ragazze dai ragazzi e lanciate una sfida credo che era da tesi tu tu si si che brazzo è turno turno proprio una sfida una sfida se fai 6 kg ti dono 50 euro ali ma chi è che deve fare e senti da me o riferite a quello a me che sto stream mando o gli altri membri te li faccio vedere sono i nomi sono questi proprio nomi di kit e malancine a papà salvo a papà salvo a paghi papà salvo che gioca più così va bene quindi allora per una partita frate ai 6 kg da una parte città per stamattina per il mio donato no sempre se io voglio sì a fare sempre si chi e fa se chi le vige d'uscita non si è cominciato ammazzate mi raccomando siccome un canso del caso senza butta facciamo così non ho nullata aspetta sta annullando sono non ho nullata aspetta 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 che successe che successe vai parla prima capo a tempo c'è c'è trafico e c'è trafico se salvo papà fa 7 kill dono 100 euro e sono onesto no deve rubarle ma che cazzo però non deve rubare deve fare tu vuole fare capire vabbè praticamente non li farà mai comunque va cazzo nelle carriera sa vola sono becchi io ci credo io ci credo pari di un ciclo di luglio stai ragazzi per la spolleggiata condividete e scrivete ragazzi passate anche dal da twitch passate scrivete pezzi ragazza tutto scritto piccolo unito e vengono a trovare mi con il corso capo lasciate il follower ragazzi per voi è un semplice clic per me tanta roba dai ragazzi e se credo c'è mio zio fa 6 kg prendere un po' questo nipotino c'è mio zio fa paghi batti alti mi fanno nascere proprio l'au ora ci pensa lui è un pro e poi non lo sapevate non lo fa se vuole di merda di chi ti è proprio flabio pinato ragazzo ma la chiesa da quale sarebbe un mato in un istitore di staglio mano tutti i pali la sala bello e quindi se io voglio essere voglio avere una sfida un po' E' da una serata che so' bello E' da una serata che so' bello Tu dissi e casa non si è sposta sa vola Zui finio Ma non ci credo non ci pare che hai pigli in giro Quei che hai pigli in giro Quei che hai pigli in giro Hai Hai Dolore ci so' tuore Torino Ragazzi inviate qualche sfida anche per mille con l'agenzia Che sono in dana di far sfide Sono carico Rimangono 10 secondi E' salvo l'hub e mio fratello Ancora 5 secondi Mi sono un hub Su rainbow E' vabbè E' vabbè capita Non si può rompere Pronti ad accoglierli Caso no Ah si Che già si sentono del grappolo Il grappolo tuo si sentono Claudio Ah Claudio si sentono il grappolo tuo Si Dovete Aspera dai concentriamoci Vai E' per terra Uccidilo 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 Aspettate che ne ucciso uno Uccidilo salvo dai Ragazzi Ragazzi rianimatemi Dov'è 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 Spera Io ho fatto una tre bound Un mui Ris spell Sperbodore Actualiz wo M Actualiz Twitch Indie Ma tu Twitch io ho visto che è forte su perché ci sono le le live quelle lì professionali che vedo molte persone se lo prendono nella ho preso youtube ma come no me l'ha messo casuale c'è molto capito proprio perché c'è giù della canna stai capendo più nello poche silenzio muto muto stati muto forza miseria frà non vedo più niente che assurda hanno spaccato i poli che figli puttana ma stai caldo fede fidati che twitch e youtube è un'altra cosa frà ma non veramente non vedo più nulla io di più rischio ignota trovatelo peccato un bar che amate se ammette i kill frà erano i kill facile dire peccato che queste sono partite libere c'è solo tre massimo quattro round però recusi un bar dove stai andando fada perché io ne stiamo mi pensi allora mi pensi mi pensi aspetta che mi pensi proprio occhio quando si barricare così unire a finire frase porco giuda castaio ma è che morì io di due mezze aiutatemi caroce come puoi aiutare ok vabbè l'obiettivo abbiamo trovato no no sono ancora più in giù tuttore non ho messo il rambino figli e mamma ma mi può curare no non ce l'ho doc octavius non ce l'hai norman osborne aveva ragione tra lecchiii che fa va bene va qui è sopra si scava ucciso ha fatto lion cos'è fatto ma nei suoni kennedy ragazzi aiuto so bandit qua all'obiettivo che posso affatto prendete il contenitore di bisogno sopra no 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 ragazzi l'obiettivo nell'obiettivo è in fin di vita si destra destra e cae ragazzi fate il giro uno fa il giro uno fa il giro ragazzi uno faccio il giro perché ci deve fare di prenderlo da dietro l'altro sparo occhio occhio a quello che muro fa che muro fa che muro ma no così con il corso con la abilità speciale no 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 guarda il buco guarda qui occhio abbassati sdraia sdraia e viene ricarica dietro la pasta rimangono 10 secondi mentre all'obiettivo fare un operatore alleato rimasto attività nemica qui a destra destra quando può aver neutralizzato la minaccia per caputana fra 3 peccato fra ma io avevo tre con ma chiamai chiesto la pistola a piene ma il contest fra il contest si è fatto e l'ha vinto un ragazzo francesco se non sbaglio crede ora ti posso curare se ti sparano oppure no ma ferma non mi ha sparato nessuno frate non mi ha sparato solo solo se quando abbiamo chiamato e chi ti mancano 4.000 sa ma ciao fai a pappare penso sai 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 fa fa che problema non vuoi ci non mi ammazzate tutti no ma io oggi che ti ammazzano va bene ma per davvero una stato vengo chiuso a ciò che mi ti ammazzare siamo in 5 si bro va ragazzi chi è chi è tutto sto casino guardate quando è già va rimbossate qua il drone nemico ha trovato il contenitore di biorizio mancano 10 secondi mancano 5 secondi il nemico ha individuato il contenitore di biorizio il nemico ha individuato il contenitore di biorizio il nemico ha individuato il contenitore di biorizio posizionato aspetto a tricola barri con la porta salvo non farlo troppo evitare evidente il buco tu l'hai distrutto mico no si merda sono in 3 sono in 3 c'è pulso sono in 3 occhio aspetta 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 forse vai alibonot ora sono in 3 evita nemmeno io ce la faccio te lo dico già adesso non erano tutti una bianca porca troia da scuavale si affanno ma e lascia a voi le uccisioni mi conoscevo che un corpo uccidio viene scappato ma è ferito di feritissimi ma è ferito nel senso che è accaduto oppure no 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 e vivo per lasciarlo stare la scuola poi dovessi invece presi che ti curo tasca qui lascialo lascialo me l'ho uscito no fra me non mi ha preso ok anche ingognito c'è tede guarda dietro guarda una rottata allestia da qua direttamente facevo strage tu guarda dietro nell'obiettivo e guardo da quella cosa dove si è merco spero sto facendo il giro anche cura mi cura non esce del cane come sei come la deve vi faccio passare bella salvatore faglielo uccidere a salvo se può fagli l'ucidata salvo salvo veloce salvo veloce è fatta la bella salvatore l'ultima di mangio compare lasciate di stare ragazzi subo ammazzano la fateva ammazzare vabbè io tanto cambucciato sui miei nomi vita un colpo e tu lo vedeste che ci sparai tu ora a uno scorreggio di vita lascia di tutto però c'è sparaci hai che scasso ne siete ci penso io ci penso così io non ho mai il sogno è tra quello del dubbio dittonino chi si sta facendo proprio ti ha proprio ricicchinato ovvio preso e bullizzato non poter fare l'ultima rosa rosa non parlare la rosa resta di il più pova vai vai ora no ammazzatevi tutto questo punto io guarda io con me con me claudio io vi lascio seghi io vi lascio chi l'ha fatto ma claudio ci ha avvolato la sfida in corso si ma ormai si ma ormai una c'è un tre sfide in una partita è difficile farlo da capo la parola un'altra grazie fedele è perché se faccio seghi lì io non li può fare salvo è logico poi se c'è bene ma spuga deve fare il dio di rainbow non ti piace se ho questo figlio non mi piace e faccio il dio e vieni benvenuto a do itis dj1 ciao bello benvenuto che bene l'annina c'è da laser dai ultima kill da sto punto se muori fatevi uccidere dai dai sister dai ovvio e facciamo un crignale penso insomma se muore se muore tu io pusho direttamente primo piano mi sa no ma che dico pianotare ma io proprio arresta io fuori proprio tega me e non gas tu sei mi chiede è sotterraneo raga è sotterraneo è sotterraneo vg o no che c'è ma non mi trovo qua sotto ma dovessimo che c'è la posizione dei contenitori di biori vigil vigil van dyke c'è qui vigilante ragazzi non busciate fatemi fare il video magari che appena ammazza non mi interessa vuoi bene vuoi bene vuoi bene tu 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 ma sono sotto abbiamo detto si si qua sono qua sono solo cambio caricatrice eh no male non vado a pusciare no no non mi ha tolto niente ahahah no aspettate fermi fermi e con il mirino laser era qua il punto di nell'altra parte ok fatto i gil che dicevo proprio esi perché c'era prima drono ha fatto vigile urbano però urbano allora ragazze gattivissimi la trappola del frost non l'hai vista parre non l'hai vista e nanno non giuna rumbe boh non l'hai vista non potete di difendere la stanza di suggestità ma se qui indietro sentivo dei rumori in chiapazia in chiapazia di due lato dai chi c'è quella cam bisogna spaccarla dal lato sto dronando un secondo raga vai vai squatta me lo squatta una carica da irruzione dietro sono sono in due grazie valentino grazie gara occhio no bravo di un mario ma lì da sopra arriva da più delare nooo cazzo raga la raga l'altra un secondo sto rialmente l'infuser da sopra aspetta aspetta coprimi salvo fai i fuoco di copertura posto ok ci siamo dobbiamo pushare aspetta aspetta guarda aspetta ok ci salvo esci esci salvo rimbara lo dovevo fare mancano 5 secondi ma 5 secondi che stanno ma perchè non si è ingrato un operatore alleato rimasto non ce l'ho fatto tutti ne manca una settimana a tutto pare grazie buonanotte valentina grazie 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 nonostante questa live così due donazioni di 10 una di re pulita dai non è chissà cosa starai perché comunque ho visto rispetto alle altre volte poche persone però devo dire che tutte le sfide che stiamo ricevendo le abbiamo vinte ora c'è praticamente la prossima di cloud vabbè frate o la facevi tu la prossima a me si 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 flavio mi sembra che te l'ha mandata e allora sono stati senza pensiero questo e loro mi sto riscaldando è la prima partita di stasera cosa deve fare claudio prossima partita sfida a claude per kill massima serietà sono difendite la stanza dobbiamo proteggere allora me la lancia poi mi spiego frate ciao michele no abrogge i semi in 5 muro rinforzato muro in sicurezza ah no oh ma vinciamo sta partita o no dai vinciamola per favore no vinciamola ci facciamo ammazzare tutti il nemico ha individuato è meglio del nemico il nemico ha individuato 10 secondi merco c'era il drone merco mi da un po' di una siringa una siringa viendola il nemico ha individuato il contenitore di biorismo da pace va bene guarda dal posto amma mia buonissima che sia posto non mai proprio dritta nella faccia scurato con gelone no tra guarda frase bugato fra guarda venite venite veloci guardiamo no 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 vai niente c'era un proiettile che è bagante niente io sto controllando sopra per evitare che facciano questi odiamo tu erete con me la catelea vedo la cultura e che ma per dronare con me cosa devo fare ti è vicino ti è vicino alla finestra no in difesa devi tenere premuto la fraccetta bassa e controllare il cambio che è vicino fa casino che è vicino che è vicino che è vicino io qua non vedo nessuno io qua non vedo nessuno la sofia guttana tu vuoi c'è buck che è un centesimo di vita l'ho fatto proprio nooo un centesimo cameravolo turismo sono due sono due sono due però io abbasco te lo giuro ha un periodo di vita sotto da fede cambio caricatore falle entrare salvo la falle entrare ascolta me vieni 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 entra 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 e togli di da la porta entra e togli di da la porta meee 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 ho fatto scoppiare questo merda ok c'è un'altra c'è un altro c'è un altro da claudio da claudio 2 2 ce ne sono che al nemico di prendere il contenitore hanno rinunciato ad appropriarsi vieni col tabelle vieni col tabelle vieni un operatore aleato rimasto pensava a uno pensava all'altro fede sono dentro sinistra fede sinistra sono tu e nell'obiettivo fede sono niente non c'è non c'è non c'è non puoi entrare fede ma che fai iiii ma perchè ma arenan di capì se tu fai così è peggio fra non devi gridarmi perchè io non capisco cosa devo fare se tu mi gridi devi parlare normale se mi parli normale che non ti capisco comunque non sul rego della russa 8 chi tu fai cange cange devo fare 6 kill in 3 partite cange cange ogni live video può tenere in bocca queste cose e regole su chiede sul rego e tu voglio appena arrivare con e classificato non posso tenere più e classificate un chiaro di solare la testa lì c'è anche 16 non vorranno a vivere latte mi chiede michele magari iscriviti che dai che prossima volta magari giochiamo insieme ragazzi ha capito devo fare se chi vuoi fare 3 contro 3 no gabri noi giochiamo soltanto online non facciamo private magari tra di noi senza live va bene ma giochiamo così per intrattenere le persone se ti fa piacere iscriviti magari poi possiamo giocare insieme qualche collaborazione live ragazzi dai passate pure su twitch raga è normale che lo dico è normale un governo stefano cascarica di da tutto pare ogni live c'è il record di chi mi stai vicina ma ma non 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 ma ma carlo non mi dei canati bimbi come deve cercare preme tascomando siate come è che non ben giusti a fanatic pad dice scrivici di posso cercare pd per te per me è un gioco il suo caffè e lecchi di gelo alberto alberto risponde a me il live il live porno gravi della famu pagina ma non mi posso asciugare il sudore mentre giochi manga d'amanda di tagliare semu un borgo indirezza via dobbiamo invitare anche per me dare a me di pre la vita la punta al quadro tossicuri merda dopo nasa voi o tutti ragazzi per una persona che non c'è mai giocato e tanta roba veramente senza che gli siamo passati ho detto andaro a pic spostate rispostatevi fanno danno sta fanno la squadra d'attacco ha trovato una bomba proteggetela rimangono 10 secondi questa barrico la apro quale questa no no puoi barricarli temi che come metto capo sogno a post pensione sopra da dove da la motola e salvano gli sporgi a io pure però stiamo attenti e montagna un pizzo adesso non ci consiglio occhio da dietro tutte cina mazzo e che minchieravamo tutte fuoriate non mondo non è morto va bene caro cede cascata ma la è normale pistolina silenziata con grumi 3 cosa vuoi fra ma sta pistolina tu ci scherzi ma fa 70 di danno ogni colpo che prendi e tanta di danno in che spara croce anzi a per 70 di danno flavio pinato scrive dai credo dai credo dai credo dai credo capo e aiutendo bella raga noi le accettiamo tutte non c'è un problema ci divertiamo e ben venga se si perde o si vede si perde non ci fa niente non caccia di ancora di più c'è micu capo patto a boom appena l'abbiamo ufficializzato prc dove andavo verso l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto la faccia la faccia stai l'innovazione in questa partita no 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 tagamo bar dai carri monos monosu le nord i tanguiti Sopra c'è muta i nozzi Cavera Oh guarda Oh guarda Oh guarda Oh guarda Che succede? Le tunnelate le ho fatte tunnelare Tanto fai che tu fai spaccare da lì eh Da lì eh Da lì eh che succede La mette a parte Ah ok ho capito Abbiamo Sponghille 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 Ma dove dove? Oh vabbè Sta mappa non è che mi piace tanto Beh c'è cavera che sta rumando eh Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia mi fottissi la kill salvo lav come ti fottissi la kill? lo pigliai in pieno e ci fissi headshot vabbè, chi c'era davanti che sparava? ci possiamo rivedere dalla live, fratello vabbè, sono morto ma non lo so che tengo, indovinate? sono uno che stava giocando prima di solo stefan ragazzi salvati io lo cavo con noage red ninja, red ninja guarda resta solo un operatore d'attacco chiasapola mi si ha potritta kill non ci può sapere ho la sfida lo so, frate, ma io che fai? me lo sono visto davanti che mi mirava bella salvatore gg per sas no no porco che ha top secret grignamento ciò fu c'è 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 se faceva quella killer era tanta roba però io lo avevo ferito proprio al massimo a quello flavio dopo sta partita posso fare farne una per spu una sfida suppongo sfida si 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 dai che uno ne ha fatto stasera sfida la posizione di una bomba ragazzi occhio che entrano dalla bomba b si ve lo dico già adesso mancano dieci secondi mancano cinque secondi mancano cinque secondi la bella larga la spacchia musica non si può mentire più piano proteggetela la squadra d'attacco ha trovato una bomba che c'è la canna botola una cosa chi ce l'ha tu guardi qui Mirko tu guardi lì si si fuse qua fuse qua dove dove sono stato individuato fra allora il vetro dal mira non lo spaccherà mai per nessun motivo perché qua è un brutto punto se lo spacca claudio qua che stanno sparando frago e non stai capendo qua 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 ragazzi non muore non muore nooo non ci posso avere gridlock si appongi a certe citare percorso il gioco ecco perchè non muore fra i figli ci sento sono per individuare porco giuda ma ditemelo avete chiama abbattissima come potesse di chiama vedi queste vecchie un'età tutte cose e in automatico e benazza per l'anno si acchiappa una sfida e melangiare una sfida verso venavo ma cui ma io come una sfida mi hanno lanciato male questa è questa partita no sono tre partite tra tre partite se i fatti tre partiti ma ci dai tempo si va domani a mattina e vabbè nel frattempo vediamo quella di federico qual è se vuote aggiungete male anche una per me che io non ho fatto nulla mi sento inutile che può costare nok nok vedi un 20.000 di genio di 9.083 porco 10 kg in tre partite 10 euro se ne fai di più dono 20 euro quindi ho tre partite io non è difficile ma un piccino una partita danneficio 8 frate tutto dipende ma quella quando ti ho topurito ne ho fatto otto per appunto quindi federico quali le altre 3 quindi ne ho 3 e 3 praticamente ora io a partita queste invece credo ne ha due bella bella mi raccomando mi pare federico sport e monili ma come pare se sono davanti a me devo provarla a chiuderla io frate sta se ce la faccio sembra ragazzi seguiteci che magari poi qualche partita insieme la facciamo dai raga spolleggiate scrivetevi forza bella ragazzi dai passate anche da twitch lasciate un po' eravamo a 336 siamo a 342 bene dai ragazzi passate pure su twitch raga e fatti e fatti meglio fatti sa fare la sfida la posso fare anch'io e ci provo è mandata mandata a me lo so vabbè no è per chiedere è per chiedere ma che è ma perché è che c'è e voler e ancora 10 secondi fra fra claudio mette anche qui il mir Ah ok, l'ho scritto no, magari dopo Cosa c'è in zona è quella finestra là? D'accordo, c'è un problema! Non è vero! Fai! cacciate la massi però posso sapere nooo no 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 porca ptta dietro no ragazzi l'uccisione ha quitato ma stiamo a scherzando smirai come un bolco no pensavo che l'avevi fatta e citavo di pompa di cito ma non è allora non è buono bomba e sarpen tonici spero davvero che specchi stavano venendo ma io mi sono passato dalla finestra mi sparavano dall'altra porta ed è di lato in direzione gang bang mi figli dai vai e il colpo se non fa tutti i figli hai giocato tutta la sera bene la ragazza poi sono così ogni partita è a sé a una storia che dicono è la live di tuccio tutto bene tutto bene ci seguono ci seguono e l'idea di salutiamo tutti li salutiamo infatti studiamento salutiamo che cibi ricomandero di jodia e se uno fatta e salvo ragazzi c'è muta chiasse pronuncia giammare sì sì c'è io posso cosa stessi tu frederico tu consumi una squadra va a chi non c'è io consuma una squadra a chi non c'è io consuma una squadra a chi è tu vuolessi che io c***o che ne facevi resati guarda bello che tutta la sera è buono guarda ora vediamo lancio una granata di mp gran arma non so caro lì dove ho pingato io fattelo fattelo è ferito granata frammentazione niente raga me lo sono dovuto fare perché stavo per essere arrivato stavo sparando a te credimi era la fede fermo qua era occhio che fa raga entriamo rifiuta di nuovo realizzate la minaccia no ah vai ambare va ragazzi ragazzi che pazzesco vede dov'è qua e qua ma qua dentro c'è 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 veduto c'è 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 no almeno questo lo dobbiamo vincere per avere un'altra possibilità non so che ti devo dire una serata che io sono arrivato io ebbè ma c'è la pressione no ma non c'è ma quale prossimo no ma fai cura perché che ne sa fa la pressione ma rega è così ma se ho partito e ne fai 8-10 e quando ne fai 0 bisogna trovare ma io Claudio quante kill sei? 0 io lo spazio con una partita è stato individuato ADS attivo è stato individuato allora ragazzi una baricata qui con il telefonino potrei giocare con voi non lo so fra ma adesso non lo so ma in verità non lo so non lo so su fortnite si può fare qua non lo so il tempo non esiste per te si il tempo non esiste ma c'è vero? vabbè ma sarà sarà molto difficile ragazzi col telefonino però no ma sarà anche molto tarocco è diverso il termine non lo so da dove salgono? sono tutti dal furgone qui dove vi ho spottato io hanno rinunciato ad appropriarsi una raga sono entrati difesa contenitore di più rischio infatti al nemico sentate ulteriori accessi al contenitore vanno fatto dai ma stiamo scherzando che sto mitraglione vince con il pompa contro il pompa ma porca miseria occhio fla sai dai qua c'è lei viso è da destra esatto qui hanno dronato salvò devi tornare l'obiettivo nooo ti hanno ferito ragazzi sposti spostati che se non ti ammazzo vabbè eh rianimalo rianimalo vedi se riesci vai 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 adesso sta dronando sta dronando guarda se mi vede occhio a me tutti insieme l'ho colpito l'ho colpito ah no mi ha chiesto ritorno dentro ritorno dentro là pazzesco non c'è come devi campararti occhio su apri per termine per termine sei troppo scoperto è più perdono sicuramente sarà la sotto in fondo io sarei entrato la sotto nelle scale posso seguire da qualche parte no 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 nelle scale guarda claudio subito nell'angolo o di all'era che ce la vedi sottomira e lo so quello un colpo solo era reazione ambare come detto l'altra volta devi sparare subito peccato tanto l'ho ucciso nella fisi e spui in silenzio e ambare spui in silenzio no sto scherzando è stata una partita di merda salvo lo sa fare fortemente più di giro ha fatto lui nel minuto e mare gabriello onesto non lo so scriviamo cugnato federico tu consumi una squadra e mare a così ogni volta che uno yoga male subito appuntellare la è giù se la nasca se la nascutato se l'ha nascutato non se l'ha nascutato ai ragazzi quando vado pure in un secondo in bagno è capito la prostata tutti c'hanno la prostata veramente più la prova al contrario ingrossata va bene ingrossata e tutte cose ingrossate c'erano le parti basse nooo basta il giambato il giambato il giambato il giambato la carriola scusate allora allora che sta fanno in cimma se andava in toscana nel 30 mangi e tu fa improvviso se è tutto così nonostate magari fai il nuovo additivate basse capace c'è vi darei vero additivate facevo chiamare a poi chi mi ce l'ange chiamare manco una kill pazzesco dai ragazzi nel frattempo rinnoviamo i nuovi ragazzi mettete l'iscrizione Mirko Ficarra ciao Mirko benvenuto bro se ti fa piacere lascia like e scriviti e in descrizione c'è pure Twitch se magari vuoi passare pure da là dai ragazzi iscrivetevi e lasciate like e condividete bella raga vi voglio dire che domani i pezzi della casa saranno di nuovo qui in live in diretta con voi domani Federico credo che portiamo fortuna domani fortuna domani fortuna poi ragazzi non mancate non mancate io per impegni personali ragazzi mancherò 8 7 giorni vabbè 8 compreso la domenica 8 giorni ragazzi eh perché non ci sono riusciremo faremo in modo che non mancherà dopo un anno dopo un anno che ci mancherà anche se ci mancherà anche se ci mancherà quindi fa un tempo anche io hai le montagne hai la neve hai la neve dai ho la neve ho la neve che bella quindi ragazzi mi raccomando domani non mancate perché c'è appuntamento in live vi pescherà la casa su fortnight ti aspettiamo numerosi esatto come sembra come sempre come sempre saluti saluti non lo so guarda due partite dopo ce li facciamo fede no ma io dopo dopo la sito così ma io le sale stacco la live c'era gail la nostra idea era su te che magari di fare un gruppetto è giocare tra di noi però ho visto che tante persone non approvano queste cose preferiscono giocare in live c'è anche da dire in live o online nel senso in rank c'è anche da dire ragazzi che giocando in rank praticamente è una live a solo che io non massimo c'è qualcuno che mi può fare compagnia nel party ma di gioco gestisco soltanto io si potrebbe fare si potrebbe fare ci sta comunque è una una massimo due che comunque non è un gioco dove possiamo fare cooperativa che noi ragazzi il nostro comunque punto forte essere tutti insieme farvi ridere comunque aver il gruppo unito ragazzi i diavoli pisciati i diavoli pisciata il segno a fare suo castello cadore cui io la usciamo a l'esame su capetero pronto è sentisi se facci ripoco se che chi sai non che io c'è se facci una pisciata per minimo decilidio minimo pisciata bisognava se mi vissi preparati claudio che ora in questi onnett mannufoto preparati claudiuso che in queste fotografie ti faccio cascare malattie c'è da poter fare parte infatti federico diceva parlava di castello in aria questo è l'umaro questo è l'ufficio bagno di giurato romani ti mangia stasera turillo cosa ho mangiato stasera pizza io pure pizza ma dalle da pizzeria schifusa no chiediamo faccia mangami aglio cipoglio basilio questo livello io aglio nale nike indones fa basilio polla che sembra più forte basilio salvo l'ava perché metti casuale metti barricata perché sono esci solo ok vabbè mettica su lui vuole andare veramente solo vuole fare full team vuole fare full team se fa full team è stata live è stata live io ci credo ci credo a questa sfida stessa partita almeno faccio 4 kg almeno e allora ci credo per favore mance più giade c'è 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 l'opo 8 piano terra Ieri, no, no, è nel garage Salterraneo, no, nel garage non c'è nessuno Serio C'è una bomba nel garage, in bar? Anche a me hanno distrutto il drone da sotto È entrato io nel garage, per questo Sono a piano terra, sono Porco Giuda, me l'ha distrutto, brutto cane Che sei un cane proprio Il contenitore di biorischio, difendetelo In zona sponchile, ragazzi Ah, ma io li abbiamo trovato alla fine Ma scusa, metti in sicurezza Ma praticamente è qua Ah, è lì Ok, peccato che non abbiamo più Ah, più zucce Salvo, su con più zucce puoi fare No, baldoia, peggio Non mi puoi asfaltare Dove sei? Ne ho fatto uno, giambare No, dico, negli angoli Tu devi vedere, tipo, nelle barricate Se puoi fizzare Perché tu fai strage, ad esempio Ma bro, aspetta che ne ho fatti Non è arrivato Carica, grappolo, piazzata Ma dove sono? Piano terra o pieno piano? No, no, ancora più in giù Ancora più in giù Porco Giuda Carica, grappolo, piazzata Non so, la gambo Allora sono veramente giù nel garage Sì, sì Nuovo link, entra Tornate a occuparmi di fronte Dopo aver neutralizzato la minaccia Dove sono? Ah, l'ho visto Ma da dove? E da dove? Ottenete il contenitore E via Mi anima, mi anima, mi anima Mi anima Qua dentro? Dobbiamo vinto Qua fatto? Contenitore ottenuto Spaccate Baris, io mi In garage Brava Claudio Devo prendere per forza Bandit Di chi a mettere Chi do da la benda Che f***o Sennò altrimenti Se c'hanno termite O Ivana Si spaccano tutte le cose Le difese Barricate la stanza Dobbiamo proteggere Brava Barricate Io faccio Spositirli di zone Levate, levate Oddio Il drone nemico Ha individuato il contenitore Di più Fortifico il muro Il positivo piazzato Io sto facendo due cose Contenitore Sto giocando a Crash Royale E nel tempo sto giocando a Rainbow Questa Questa è veramente ragazzi Sì è pro Sono un pro-gamer Sì sì Ma l'ho spaccata la testa Vai vai Cala sogno Guarda 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 Quante coppie hai? 3.800 Dilettanti 4.200 4.200 4.200 4.200 Le salvo Di mentire davanti Che sono proprio dietro la porta Sono io Ne si alza Ci spacca Adesso ci spacca Grande For ludic conocerai È la га Visionare Nelle scale Aiutami Madranana Ucciso Salvo Perché Ucciso oltre a vedere la cosa parla vicenda non ti ho visto che vi dico come le scale c'è scritto tabola abbraccia che mai questa città non ora ucciso sasso ma c'è un libro si è fattato no di fuori poi difesa poi di 3d st mirando io è stata bellissima la scena occhio che bana scende proprio da sopra sopra col c'è FUZE non vuole piazzare FUZE grande si stanno fanno tutti la su gente c'è Claymore qua in un altro ok capito che attacce bello posto da se accettato da tra l'este qui tanto faccio bello no ma come ti ammazzò che appaio vedi struttura ma come ti ammazzò sto trovando si scena di caffè mille ammazzare ma è un bel bel c'è stanno a fare sedenti non c'è un'ora sta arrivando mira sempre lì prego esce correndo posto la sua vittoria alla difesa si scassa si il il questa la sua vecchia il il terzo è un bel schieno e proprio al pala paolo proprio i piccoli chi ci ha voluto chi 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 non ci voleva la partita di prima 0 di 3 5 kill non ce la possiamo ora quando muore per io a me o a mirko con il mio camo questi benzini no ma l'ho visto dove rimessa aveva un bel posto poi l'ho preso non so perché non è morto e poi non l'ho capito come data apprezzate un minuto alla testa tu lo vedesti in mare io l'ho visto però non l'ho capita questa veramente forse boh ma forse perché quando sparato si ha alzato l'arma ma qui c'è a parte quel drone che sputa di cosi che abilità speciale niente per questo questo è un problema può distruggere le telecamere le trappole di cap can assiste non si può fare chiedi però non può saltare vero no non può saltare eh minchia che è stato troppo forte sarebbe piaci se sbaglio in mare a fare i 360 QG pom primo quadro 4 me l'hai detrovati? sono a piano terra vero? gopro ben fatto è un altro è stato individuato a bella è stata partita con la persa su crash ripperotti ah poi giusto giusto mi l'aspo ne è un bel posto che non può manco saltare contenitore di più rischio individuato raggiungetelo Aggiungetelo! Allora... Cioè, ho la bella dronata, distruggendo le carri... Tre pezzi non sparate, eh? In che senso? Nel senso di sparar! Ah, ok, perché ci vuoi entrare molto stealth, distruggendoli! Senti, non ci sono lo soldo! No, no, vado meglio dall'altra finestra! Tranquillo, ci sono! Sto dronando qua sotto da me, eh? Eh sì, sto dronando io! Ah, tu stai dronando? Sì, sì! Ah, posso! Ricarica! Minchia! No! È dove tu hai deciso di andare a fare volte! Vabbè, dai! Ho distrutto oggi a portare le gambe! Non mi lamento! Ma l'hai detto, figlio di puttana! Non c'è un caricatore! Unico nemico rimasto! Vilo! Ah, porco! Ma perché mi spari? Ma l'ho sparato! Ma l'ho sparato! Ma l'ho sparato! Ah, no! 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 Tornare a occuparvi di me! Tornare a occuparvi di me! Quando è meno ammazzare caruso! Ah, beh! Vabbè! 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 Dove lo devo vedere! Raga! Però raga dovete supportare Pluet e Spu! Ma giocate di squadra o anche fare più il kid tra voi! A me Flavio mi ha.. mi ha rovinato la prima partita! Non ci volevo! E crede, potrò… Noi li supportiamo! Però certo che noi non possiamo farci uccidere! Dobbiamo farla qualche cosa! Ah, 13, 13! livello 13 ossa pari berlin che minchia da un per un'azzo per me la vera di un po' fardù poi ragazzi si deve andare per forza non voglio un piaccio se volevi tuo cap can eh no già ve lo ti avevo preso Claudio ora ti faccio mettergli a po' le belle belle via giochiamo contro Neymar si barricate la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio oh sega qua ragazzi il baricato è stia il contenitore di biorischio guarda la linea di tiro della DS mi giudiste si mancano 5 secondi il nemico ha individuato il contenitore di biorischio minchia vedi Claudio nooo 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 sledge no dietro di me mercato arriva da dietro sledge l'ultimo attaccante rimasto in vita pro fammelo fare a me eh vieni qua ce l'ho io aspetta aspetta non c'è andare non c'è andare a sinistra a sinistra a sinistra Federico a sinistra grazie Claudio ho eliminato tutti i nemici eh non per cosa ma qua non si ne ha visto affari 5 ne ha visto affari non è impossibile mi ha fregato mi ha fregato tu quando ne hai fatte Claudio una una e quando ne hai totale in che se ne devo fare e ne hai tu 3 una come una una fatta a partite vale o no o sono sei totali nooo sono accumulabili nooo fra allora vai allora dai mi impegno questa partita giusto? ma quando ne hai altre partite un po' le tre ne hai tre 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 treno fatte eh altre tre allora trovate il contenitore di Bioricchio ma con i iq vedo pure le persone no puoi vedere però Pulse si Pulse lo puoi vedere se sta scandalizzando con il suo perché ho visto molte volte che ci sono persone che usano Pulse e iq e vedono le persone e ci sparano non pare si si ed è quello con Pulse oppure quando hanno il telefono fuori che c'è DOKAEVY si vedi pure Prost mhm Vigil Vigil ma può essere anche knock vedete raga non per forza Vigil no no knock è offensivo ah vero direttissimo un coglione raggiungetelo ma io ando a fare la maratona dei cento a mano di quanto corro scansioni dispostivi elettronici ah subito subito a destra ci sono persone subito a destra qui non l'hai trovate aspetta sto controllando fermo fermo no 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 toglilo toglilo Claudio non c'è nessuno qua dentro se mi coprite io drono va bene Fede vai 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 copritemi eh guarda occhio che c'è Vigil e Valkyrie ce ne abbiamo due Fede fermo qui è trovate il drone cazzo occhio Fede ce ne è uno dove? posizione 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 che hai visto? e dove? ma possiamo entrare da qua aspetta dai a vedere faccio una pazzia gambare tu piglieste tu gambare mi esiste c'è uno e tu piglieste tu vai 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 salvo andiamo veramente tui su un bar ora arrivo l'auto piccolisti amma fammi provare un baracchio di last asfield c'è proprio un bar c'è ecco comunque c'è ecco comunque c'è un bar occhio Claudio a sto punto ragà provateglielo a fare a fare ancora a Claudio nooo e qua dentro qua dentro qua dentro vabbè Claudio è di dietro ti proteggimi non mi dici ci proteggimi mi hai detto occhio fra stai dronando c'è proprio c'è il beneficio si chiesto difendete la stanza e proteggete il contenitore smettete di difendere la stanza c'è un amico l'amico no se ne ha la cantina ho sentito il colpo ero pure adesso riparato che palla ma anche lui ti ha presso c'è un pre che palla lo voglio questa mappa tra il giuro la odio proprio a mai finire allora i prendi al cilio nero dove siamo ok vediamo se cadere acqua è buona mi prendo mira o jäger raga jäger jäger master ci vuole sembare a flebu proprio direttamente in questa volta ci vuole un boom dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio sono toglie lo voglio che si esplode la mia trappola si è dentro di dombo? c'è twitch? ah twitch buttavano ma cosa sta sparando? ancora cinque secondi il nemico ha individuato il contenitore di biorischio con trappola sta piella larga questa porta è quasi fatta grande ma da dove? ma la mangio non con la bomba fra ma tu guarda questo me ne mancano tre sono tutte e due da me sono tutte e due da me ma dove fra? no no ragazzi l'età è l'obiettivo non l'obiettivo ah sono andato io all'obiettivo ultimo nemico rimasto oppure se la volava rimanetci tu che io devo fare lo che ci sono si si vai 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 ci sono io quell'obiettivo ci accendiamo con uno c'è il chilo magari io potresti fare non lo farà a me guarda i difensori hanno eliminato tutti i difensori hanno eliminato tutti io ho la sfida guarda no c'è la sfida non è anche ora che avete venito qui e non è nudo ma non mi hai visto non hai sentito e ho detto fammelo farà a me non pare chi non dici? tu è stato troppo ahahah sono vincere così 3 kill dovrei fare ho fatto eh, la so ci vediamo fatemi fare una kill ci vediamo io turno l'ultimo round così in mare giusto se moriamo o io o spu o se moriamo tutti e due diciamo dobbiamo perdere il round per forza se no trovate il contenitore di biorischio e vedi e vedi ok sono giù andiamo a rompe esatto ve l'ho giocata nel 22 vediamo dai ragazzi vediamo ottimo lavoro contenitore di biorischio localizzato dov'è da qua entro da qua io qui c'è tutti da qua io ok posto due abbiamo un'altra claudio aspetta aspetta poi giillo c'è ecco oh ecco 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 parla tu claudio parla tu chiudila tu quanto te ne mancano claudio l'ultimo ti mancano qua dentro qua dentro dai non ci farò dai una te ne manca fra nooo vabbè vabbè falla tua fra rusi una me ne manca lo possiamo perdere sul round attività nemica che dobbio fare dobbio perderlo il contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia dimenticatevi del contenitore ok perdiamolo dai fra sai dai vieni vicino a me che c'è gente claudio ma tu non ne hai fatte già sei non ne avevi fatto prima per kill gliene manca una una sola ok a me me ne mancano due muoremo facciatevi ammazzare facciatevi ammazzare salvo ok dove sono? dove sono? dove sono? dove sono? vabbè però ammazzati ok ok resta solo un operatore d'attacco o per chi chiudiamo aiuto io claudio o per chi chiudiamo così lo possiamo chiudere tutte e due fra dovessimo fare due killi io e dai una ne fa una a te quando te ne mancano una e due siete due siete lì una claudio dai suicidati fra suicidati scemoni di che fa che e te pare che questo vai a nè? se ma ci fanno uno scoop e lo uccide scemoni di che c'è nooo muoio no muoio è giù è giù però provaci non si sa mai non no no guarda mia no no guarda mia no 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 scupe no no scupe no scupe solamente no scupe no scupe no scupe vabbè dai nooo abbiamo perso Cazzo Peccato, raga Guarda, lo trivellavo, prendi, ci facevo un buco preciso Ma Sura, io sai che mi immagino, ma ci siamo fatti quasi tutto il team, RS1 Mi immagino cosa ci sono immaginati tutti gli altri giocatori della loro squadra Che stanno facendo, cos'è? Come vincere le donazioni illegalmente Esatto, Fran No, in verità abbiamo perso il round, non è che l'abbiamo fatto apposta Nooo Vale, io sono contento se almeno io o lui Lui ha più possibilità, uno ne manca Prova da non farne kill, raga Fate iniziare sulla me a Claudio A sto punto Claudio, come stai con me a sto punto? Vabbè, Claudio, stai con me a sto punto che non ti faccio fare manco mezza chi Stai con me, Claudio? No, no Non dico, vorresti Claudio, in qua Muro fortificato In qua Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio Qua, qua Pronti ad accoglierli Stata pronta State alla larga State pronta, state alla larga Stata pronta, state alla larga Muro fortificato Arriva Claudio, che mi scanna io mi metto di nuovo davvero prima mancano cinque secondi proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi che sei bene uno di spascio claudio venga qua dove fra qua qua dove sono io che prima o quale ho fatto le kill che c'è gente claudio arrivando mette di fuoco la mia 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 poi io non ci spavano aspetto che ci spero tu io non devo fare niente ma si è messo e visto coprimi le spalle le spalle le spalle le spalle claudio provo a pushare aspetta una l'ultimo in manga raga l'ultimo ma ci sono vai claudio ma gliela farà a pedra e ce l'abbiamo fatta ma come hai fatto ma c'è la crema vabbè ma io come un nuovo porco hai fatto bella ce l'abbiamo fatta fra dieci io e dieci tu bene fra cioè stasera ragazzi guarda che abbiamo vinto tutte le sfide tutte le abbiamo vinto ragazzi stasera le abbiamo vinte tutte questo rainbow che non mi piace cos'è era dentro era dentro ma sei stato individuato bene bene bello missione completata mischino mischino cazzo buono ma tu c'è vera fa la vallia che vittoria so sferza 7kile sembri che sei con te pare ne faccio kill ma spascio oh caga fuori perchè devo fare la missione per favore per favore ma grazie mille bravo allora arrivo grazie flavio facciamo bella flavio bene bene io faccio l'ultimissima e poi sacco di sono buongiorno mai diciamo di facciamo tutti questa è chiaro a poi diciamo a dare tu mai scelte a combare mercurso a casa a mercurso cucù e cugina si edo tutto un movimento andy faccio fare tutti i movimenti veloci e cuore un persino bella flavio mi arriva dalla donazione grazie bro bella grazie mille spero ti sei divertito con il fratello anche tra la fine che abbiamo fatto gioco di squadra ma così si gioca ragazzi legalmente perché devo dire devo dire devo dire devo dire devo dire che oggi abbiamo giocato tutti per la squadra io salvo lab salvo buonanotte grazie per la donazione le spalle ora claudio questa partita per esempio dai non mi interessava fare kill grande bro buonanotte buonanotte ragazzi abbiamo abbiamo vinto quattro sfide da 10 euro e una da 20 ah raga guarda che stasera abbiamo vinto tutte le sfide che ci hanno lanciato non ce l'hanno lanciata soltanto a mir qua beh dai guarda sì non ne devi ricevere mai sì e soldi non c'è una fungione una sfida dentro questo mese ti arriva una sfida ti do 10 euro ragazzi ragazzi l'ha detto no vabbè non c'entra un mare sfida una sfida in mare non è ma cazzo una squadra e come va a bambare o io o tu sempre io te lo fico ma io mi fingo bronzo 4 adesso così vabbè fai 10 kill minchia sono un bronzo 4 non lo farò mai veramente mi fingo bronzo la cava questa qua lascia ok siamo a 5 secondi mi ricordo se tu mi guardi sopra proteggete si si tranquillo ci penso io sopra qua qua mi devi guardare aspetta spot ah ok dove perfetto tu occhio sotto tu occhio a sora dai vado pure è sora dai vedi come funziona il mio fa le spawn kill eh io sono poco studiato anche con le spawn kill ma perché so che dopo una kill vengo ucciso subito tira c'è gente federico oh è impazzito no è impazzito ti distruggo a tutti vado a fare i tornei già perché in mare quello mi ha ucciso pezzo di fango se non magari lo spaccavo ma il suo cattore salvo i cattore se la buttamono a se i carriamo i carriamo già questo qua fratello l'avevo beccato pure comunque no stasera abbiamo giocato tutti benissimo raga ma abbiamo giocato tutti bene di squadra di tattica mare le persone ci hanno fatti complimenti ma si gioca si gioca così è giusto non a cui fa record di kill ma si deve giocare di squadra e anche il record che io non lo più oneste supera è normale che ci deve essere due di tendono due attacca non si c'è la strida non è così si deve mirkode quando l'abbiamo proclamato membro di prc si ha bloccato ugaruso è stato è stato inventato dai pezzi è vero la maledizione però delle 11 kill più delle 11 non è scopata ora uso 11 kill ora ti facciamo 11 come ora dopo ora come ti facciamo dire cauro cauro lo vuoi sapere che cosa è fra è che non giochiamo è libera classificata è tutta un'altra cosa di senso è tutta un'altra cosa è tutta un'altra cosa ragiona è un altro tango mare aziende di un altro livello e non possiamo vincere mai giochi anche diversamente giochi là mare non lo so a me mi sa che nelle libere è più più pushata la partita non lo so sarà perché dura di meno non devo so dire si si anche questo il discorso qua non ci pensi qua non ci pensi la strategia qua di e tante push ma le faremo ma le faremo anche quelle appena abbiamo la possibilità e lui io penso altre due tre live potremmo possiamo fare o no a voglia ma le faremo non è attivato jager occhio c'è jager qui davanti dove è qua si però è salito cioè sono andato aspetta controllo ancora si si se l'ho andato oh ma che cazzo fai no no scusami scusami fai l'è non andavamo visto che ero è uscito muro claude è sopra di te ma l'ho visto l'ora stavo dronando no ok carose come un ammazzò jager si è chido mi lascio senza la vita proprio murio non andavo visto che eri tu ah quindi jager col pompa barra eh ma a capo non sponchile di lusso minchia ho sentito dei passi bruttissimi ma dove mi ha sparato frate a ben barero one hit un coppia è morì tale unire hai chiesto gli hanno visto proprio chi non si spara a co a co piglia da mande non perdona questo cazzo deve fare c'è un valkyrie nel garage dove è salvo sabone cittura cacca dopo un'estame rannuto sempre qua no 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 vediamo ah da dietro è venuto eh lo so ma è lunga picchina no proprio non avremo di morire no qualche c'è mi rogge a casa ascolta mi mi oh ma tu hai le non le senti con le cuffie passi sì ma come mai non ti sei girato subito in mare perché erano tipo fumori metallici vabbè non sai giocare in frost è vero non sei buildare non so buildare non so buildare un pro player sembra un primo poste vediamo se bro più autore mi come scumbario tranquillo arrivo arrivo tranquillo io un attimo che drono io un attimo che faccio world trucca aspetta world small faccio 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 tutte queste cose claudio vieni qui restami tutti sono wall difendete la tanda cosa è che ha detto poco fa ma ha detto non ci sto pensando più che stai su che dice ma guarda sto plantando sto plantando sto plantando sto plantando caco caco che significa caco che in sto mettendo e in circo totale ricarico 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 non so non so non so ma ne usiamo queste parole plantare non plantare tu arrivo 10 secondi che ce l'ha valkyria io le messe qualche telecamera no ma sposta risposta di un attimo io provo a fare un glitch salvo 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 sostegno sostegno attimo no bastardo la fattuta ma sempre ragazza dietro che ne è un'altra ce n'è un'altra buttateci 4 non andrete là dentro salvo è rotto le palle però è pure salvo federico è rotto le palle io l'ho buttato per terra me l'ha rubato lui infatti l'ho toglieti 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 no un bar e staviglio ci spaccavo la testa va un caricatore sano gli ho sparato non è possibile va non è possibile è fuso là fuori il mare amma mia affanculo 5 kg io c'ho ma proprio vi sovrasto vi sovrasto vi sovrasto ci voglio vi sovrasto ci sovrasto abbiamo una vita cacciato con questo yoko aveva ieri c'è un'assist arriva io cricchi e crocco e stiamo fanno fatti il conto tra gli assist che abbiamo fatto tutti noi sono 5 kg ogni partita c'è una scusa una volta pk l'assist una volta pk kid una volta push una volta walk trick una volta kid lo sburdo i kai 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 bas lukhan ora novi di miku stare denno c'è una mensurata ti voglio una mensurata appena finiamo la live sai come cinema hai cattavro caldo no non l'ho fatto no non l'ho fatto no non l'ho fatto 2 domagini ed era un amore che mi rulli a me un curti ben fatto comunque raga ho visto le live dei tornei che fanno le selezioni minchia cari sti ma lì sono malati totale ragazzi lì sono malati credetemi confusi ragazzi non mi spaccati finessi perchè perchè così chiusa utilizza la granata grazie grazie dai buildare federico poi dico che sono tutti assist si si carica carica eccolo vola non ti mettere davanti sperando il buco dai riprovo minchia nooo 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 ma smiri ha messo attacca di vita ma smiri ha messo attacca di vita puoi entrare puoi entrare clavi la 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 mira la mira la ma come non ci sei a frost nooo nooo che va a dire che fai che fai che fai puoi entrare io mi spacco nei kai kere l'unione fa la forza ah dalle ati bravo si questo gioco non mi piace se se il propo si scegna tu io sono ancora acerbo e comunque ragazzi stasera inglassificata va bene e poi ci facciamo le lasti ragazzi veramente è stata una bellissima live ragazzi mi sono divertito è stata una delle live diciamo che abbiamo giocato tutti per la squadra non ci non ci sono stati lamenti non ci sono stati lamenti è stato bello bello veramente bello veramente non ci sono stati vittori no vittori 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 non ci sono stati vittori nel pacchetto non so ma la live di tu mi c'è che sta accada potete confermarlo ragazzi vuoi vedere vittorio condola hai cresciata forse non lo so ma come cresciata che stai dicendo e bari non ho staccato niente ora qua non mi non mi esce a computer mi esce ho fatto l'ambulismo che lo sta facendo salvo ma tutte ne si è andato il live fratello studi c'è tambare che sta dicendo è perché a me non ora che sto controllando non mi è arrivata la notifica salvo ma certo che sono andato me la sono vista dal computer si no si è staccata da solo male non so come grazie scusatemi se mi interrombo io devo saccare la stessa è che salutiamo che stiamo finendo la live quando ne scappare un vince se lo so il maggio ragazzi ci vediamo domani ore 22 e 30 con un appuntamento su fortemente ragazzi spero che vi siete divertiti stasera mi raccomando supportati ci continuate sembra iscrivervi a farvi vedere che siete interessati a noi niente che dire un saluto dai pezzi la casa e ovviamente da tutto i membri e di mi raccomando venire che c'è fortnite siamo i vestiti ragazza domani su fortuna ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ciao ciao